Tre mesi di tempo per preparare le carte dell'accusa non è scontato il lavoro del pubblico ministero Marco Dioni che ha per le mani un caso di una gravità inaudita, forse il più grave degli ultimi 30 anni dell'aretino. Jawad Icham è rimasto muto nell'interrogatorio di garanzia ma adesso inizia la partita giudiziaria che sfocerà nel processo in corte d'assise. Non ci sono gli estremi per il rito abbreviato, i tempi della giustizia andranno anche abbastanza veloci e si prevede che prima delle ferie gli atti dell'accusa possono essere istruiti e portati all'attenzione del giudice. I reati commessi dal 35enne di origine marocchina ma da 20 anni residente in Italia sono gravissimi. Oltre al duplice omicidio non è da escludere che il PM possa mettere nel tavolo altre gravanti che renderebbero più complicata la posizione dell'uomo che ha ucciso compagna e mamma di lei. C'è il grado di parentela, l'affinità con l'anziana signora senza sottovalutare la manifesta crudeltà visto che l'uomo ha ucciso brandendo la lama per 23 volte peraltro alla presenza dei figli in casa. Fino a che non si andrà in aula i ciamme potrebbero restare nel carcere di Arezzo. Poi dopo il provvedimento della corte ristia di passare il resto della sua vita in un penitenziario con l'aggravante dell'isolamento diurno per un anno. La difesa punterà probabilmente sulla perizia psichiatrica. Sembra essere questa l'unica strada percorribile.